Buongiorno a tutti, allora, 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 questo video lo dovevo fare effettivamente venerdì pomeriggio, poi è successo un disastro, non mi si cancellavano più i video sulla galleria per svuotare la galleria appunto perché avevo la sim piena e quindi poi sono andato a fare il merendone al Ciringuito, sono tornato di corsa, sono andato a lavorare, sono tornato alla sera, c'era da fare le schedine e bollettine del Gigione, i due preti eccetera eccetera, ieri pomeriggio ho visto la partita, poi dopo mi sono preparato per andare a lavorare, stasera sono tornato a casa, anzi ieri sera sono tornato a casa, ho fatto il video dell'Inter, il video della Formula 1 dopo aver visto le qualifiche, quindi adesso vi faccio i due video che devo fare venerdì di News e Call News che però vi caricherò durante la domenica, durante la domenica ve li carico tutti e due nel pomeriggio, nel pomeriggio tra una partita e l'altra magari o nell'intervallo di una partita e dell'altra perché poi alle 6, 6 e mezza più o meno un fruc, se ritorna a fare dai la cera togli la cera e quindi partiamo subito che ho già parlato troppo. Allora adesso le News riguarderanno una brava ragazza che ha una certa età, molto avanti con gli anni ma è ancora con una mente giovanile, infatti ha fatto anche un viaggio con altre due che sono un po' più giovani di lei ma che sono molto simpatiche, ancora molto attive e c'è questa bella intervista fatta a settembre, lo scorso mese fa praticamente, al Corriere della Sera, l'ha intervistata eccetera, ha parlato un po' di com'è la sua vita adesso, del passato eccetera. La seconda notizia riguarda quello che hanno combinato in una puccina di Buenos Aires, non vi dico altro, hanno fatto una cosa molto bella, molto molto bella. Ma andiamo a quest'attrice, no? Siete curiosi e quindi ve la dico subito, Sandra Milo. È una nota attrice, conduttrice televisiva e cantante italiana. Ha preso parte a diversi film come il Generale della Rovere, Ardua e le Compagnie, Fantasmi a Roma, Giulietta degli Spiriti e soprattutto è stata premiata con l'Oscar. La Milo è stata tra le protagoniste del cinema italiano degli anni 60 e musa del regista Federico Fellini. La nota attrice è stata intervistata appunto dal Corriere della Sera, raccontandosi tra quotidianità, sesso, il suo amore per Federico Fellini e in merito alla proposta ricevuta da Alfonso Signorini per partecipare come concorrente al grande fratello VIP. Ma vediamo un po' un piccolo stralcio di questa lunga intervista che ha fatto con il Corriere della Sera. La prima domanda che le hanno fatto è stata, Sandra Milo, che cosa la rende felice oggi? E lei ha detto, pensare che le donne salveranno il mondo, perché questa nuova guerra in corso è un terribile e stupido gioco maschile. Io ti tolgo questo, allora io ti tolgo quest'altro, ma che senso ha? E lei dice, io sono madre, sono donna, sono abituata a cercare di creare il benessere della mia famiglia, giustamente. Allora le hanno chiesto, e nella sua quotidianità che cosa la rende felice? E la Sandrocchia ha detto, le cose di sempre, guardare il cielo, guardare gli alberi, adoro mio nipote che è la mia principale fonte di allegria, la riscoperta continua del mondo attraverso i suoi occhi. Vanno un attimino nel piccantino e le chiedono in sesso, non la rende più felice? Punto di domanda. E lei ha detto, no, adesso no, non lo pratico perché non ho tempo, ma l'amore ha bisogno di cure e io non voglio un amore di seconda mano. Le hanno fatto notare, a quelle brave ragazze, il viaggio fatto su Sky con Mara Maionchi o Rietta Berti, le avevano predetto che avrebbe incontrato un amore nella sala d'aspetto di un dentista. È successo? E lei ha detto, no, dal dentista non ci vado perché ho paura. Però l'anno non è ancora finito, siamo a settembre, siamo a settembre. Le hanno chiesto, le piacerebbe incontrarlo? E lei ha detto, sì certo, è logico, ma l'arte amorosa spirituale la vivo ancora molto bene. Ho amato e amo infinitamente, scusate, mi sono impappinato, Federico Pellini. Per me è come se ci fosse ancora. È dentro di me, è stato un amore così bello, grande, infinito, divertente, senza le cose di dolore, gelosia, violenza. Ecco, io ho ancora molte riserve del mio amore con Federico, ha detto la Cassandra Milo. Ma quasi. Le hanno fatto notare. A un certo punto lui voleva lasciare Giulietta per stare con lei. Si è mai pentita di non averlo voluto? Anche il bronco di Riace è lì mumble mumble, curioso. E lei ha detto, no, ho avuto paura che potesse rimpiangere Giulietta. Poi ha avuto paura del quotidiano, che svinisce un po'. Spendi troppo, stai attenta, il nostro amore è stato privo di grandi vantaggi, ma anche di grandi svantaggi. Proseguiamo. E le hanno chiesto. E nei confronti di Giulietta Masina che sentimenti provava? E lei ha detto, grandissimo affetto. Era molto intelligente, colta, spiritosa, del segno dei pesci come me. Siamo donne un po' particolari, un po' maghe, con la capacità di intuire cose del futuro. Le parole di Sandra Milo. Al che gli chiedono giustamente, questo è il suo pensiero, ma che cosa pensava Giulietta di lei? E lei ha detto, noi siamo state molto amiche. Quando lavoravo in Francia, mi chiamava tutte le sere. Diceva, la mia sorellina. Poi un giornale pubblicavo delle dichiarazioni che non avevo mai fatto, e cioè che mi consideravo la vera musa di Fellini. E lei si offese. Stavo andando a Fregene a cena a casa loro, quando mi mandarono salvato cappelli per dirmi di non andare più, perché si erano offesi entrambi. Per un periodo mi allontanarono. E le hanno chiesto, lei come reagì? Quando Federico e Giulietta mi tolsero l'amicizia, stetti così male che il medico mi fece ricoverare a Villa Stewart per fare la cura del sonno. Dormi, dormi, non pensi a nulla, ma poi quando ritorni a vivere ti ritrovi tutti i problemi di prima, per di più indebolita dai farmaci, ha detto da Sandra Milo. E dopo? Non recuperai più il rapporto di grande amicizia. Certo, facemmo Giulietta degli spiriti. Ricordo che quando arrivai sul set, né lei né lui mi salutarono. Fu dura. Allora cominciai a fare i dispetti. E giustamente si... Dispetti? Quali dispetti? Che dispetti faceva? Giustamente gliel'hanno chiesto. E lei dice... Ma sì, cominciai a civiltare con tutti gli uomini della troupe. Ero sempre mezza nuda, per accaparrarmi l'attenzione degli altri. Finché Federico venne e mi disse... La vuoi smettere? Dai, fai un po' di compagnia Giuliettina, che triste. E allora mi sono messa a fare compagnia Giuliettina e ho fatto pace con loro. Le hanno chiesto, tornando al presente, sta lavorando a qualcosa di bello adesso? E lei ha detto... Alla mia autobiografia. Uscirà con Mondadori. Scrivo da sola, a mano. Si intitola La strega bambina, perché penso che tutte le donne siano un po' streghe, un po' bambine, un po' sante. Preferisco non fare commenti. È un atto di coraggio, perché nella mia vita ho fatto anche cose orrende. Tutti noi facciamo almeno una volta nella vita delle cose di cui ci vergogniamo e ne portiamo il peso. Ma invece se hai agito in un certo modo vuol dire che non hai avuto la possibilità di fare diversamente. Allora, giustamente le hanno detto... La cosa più orrenda che ha fatto? Ho tentato di uccidere una persona. Era autodifesa, ma comunque difesa estrema. Resto sempre sul contraria alla violenza. Passiamo ad un altro argomento che le hanno chiesto. Farà un altro viaggio con Mara Maionchi e Orietta Berti, le altre due brave ragazze. E lei dice sì, a ottobre, quindi a breve avremo Sky che ci dirà che... Ancora non ci hanno detto la destinazione. Orietta non ci sarà questa volta, perché farà l'opinionista al grande fratello VIP. Ultima domanda. A lei piacerebbe partecipare al grande fratello VIP da concorrente? E la risposta di Sandra Milo è stata signorini me lo ha proposto e sarei anche andata, ma non posso per limiti di età. Il prossimo anno compio 90 anni e non c'era nessuno che volesse assicurarmi. Bene ragazzoli, vi ho raccontato che cosa ha detto la Sandra Milo alla veneranda età di 89 anni, ne farà 90 a marzo. Ditemi voi cosa ne pensate, vedete questa donna ancora bella arzilla, bella fresca nonostante i suoi 89 anni. Si spera tutti di arrivare a quell'età ancora belli arsigli e belli freschi. Ma veniamo, passiamo ad un altro argomento, andiamo a parlare di un artista, un grande artista e riprendendo le opere, un'opera di questo grande artista ha voluto fare una determinata cosa. Andiamo a leggere. Il grande Vincent Van Gogh ha detto, prima sogno i miei dipinti, poi dipingo i miei sogni. E in effetti i suoi quadri sembrano usciti davvero da un sogno, con i tratti inconfondibili che di fatto hanno dato vita all'espressionismo. Una delle sue opere più suggestive è Notte stellata, realizzata nel 1889, quando si trovava già da qualche settimana ricoverato nell'istituto psichiatrico di Saint-Rémy e conservata oggi presso il Museo of Modern Art di New York. Per annunciare il suo compimento al fratello, egli scrisse, spesso penso che la notte sia più viva e più riccamente colorata del giorno. Sulla sinistra di questo c'è un cipresso, al centro un piccolo villaggio illuminato con il campanile della chiesa ed una fitta vegetazione sul lato destro del dipinto naturalmente. Quindi la mia destra è qua, la mia sinistra è qua. Per voi che magari è tutto l'opposto, comunque a sinistra c'è un cipresso, per me la sinistra è questa, quindi a sinistra c'è un cipresso, al centro c'è il piccolo villaggio con il campanile della chiesa e a destra c'è la fitta vegetazione. Al di sopra si staglia un meraviglioso cielo stellato che occupa due terzi del dipinto e sembra avvolgere interamente il paesaggio, che però è solo un'idealizzazione e non ciò che vede davvero Van Gogh dalla finestra. Ma sapete che da qualche tempo è possibile letteralmente immergersi in questo cielo vorticoso che più bello non si può? Dove? A Buenos Aires, in una piscina. Camilla, 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 Despalanques, Despalanques e Rocio Fernandez di Amansai Murales, spero di averlo pronunciato giusto, hanno trasformato in arte il fondo di una piscina rappresentando la notte stellata di Van Gogh e imitando alla perfezione le sue pennellate vorticose. Sono presenti tutti gli elementi che compongono il quadro originale, la luna, le stelle e sui lati gli alberi così da ricreare esattamente l'originale. Ci sono voluti diversi giorni in quanto la piscina misura sette metri per tre metri e mezzo, ma l'effetto finale è davvero strabiliante. Con la presenza dell'acqua infatti si ha l'impressione che i soggetti raffigurati fluttuino e undegino davanti ai nostri occhi. Un effetto visivo che si fa ancora più intenso quando ci si immerge avvolti dal cielo stellato. Ragazzi, se per caso andate a Buenos Aires per un viaggio, andate in Argentina per un viaggio, chiedete appunto di poter visitare la piscina con il cielo stellato di Van Gogh che può essere un'esperienza bella da vivere. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Come vi dicevo questo video andrà in onda nel pomeriggio di domenica. Ciao!